Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che li veniva incontro, disse di lui, — Ecco, davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele li domandò, — Come mi conosci? Li rispose Gesù, — Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Li replicò Natanaele, — Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Li rispose Gesù, — Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi li disse, — In verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco In verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Con questa immagine suggestiva che Gesù consegna a Natanaele, il Vangelo di oggi ci fa fare memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele è colui che difende, Gabriele colui che annuncia, e Raffaele colui che guarisce. In definitiva, tutte e tre questi arcangeli ci donano tre cose di cui ognuno ha bisogno. La prima cosa è sapere che non siamo soli nella lotta, ma che c'è qualcuno che combatte con noi. La seconda cosa è ricevere un annuncio che è più grande dei nostri ragionamenti e calcoli, un annuncio che come un imprevisto ci cambia la vita. La terza è sapere che, quasi mai, passiamo indenni in mezzo alle vicende della nostra storia, e quindi abbiamo bisogno di guarigione. Nella nostra società, allenata al fantasy e alle realtà virtuali, parlare di angeli significa evocare personaggi che non hanno nulla a che vedere con la realtà vera, ma che abitano quella realtà aumentata dell'intelligenza artificiale. Eppure, se possedessimo un microscopio spirituale, ci accorgeremo che, da vicino, la realtà è abitata anche da forze non immediatamente visibili, ma che collegano come una rete invisibile il cielo e la terra. Un secolo fa, parlare del wifi avrebbe destato qualche sospetto di magia negli ascoltatori, perché non potevano immaginare come delle immagini, dei suoni, dei contenuti potessero viaggiare in tempo reale da una parte all'altra del pianeta, senza vedere immediatamente nulla di questo passaggio. Eppure, ciò è reale. Nella vita spirituale c'è qualcosa di simile. La linea wifi del cielo è fatta di angeli, e tra di essi ce ne sono alcuni corruoli e funzioni decisive. Possiamo anche non crederci, ma ciò non ci metterà fuori da questo wifi, semplicemente non lo utilizzeremmo. Al contrario, utilizzarlo significa sapere che siamo costantemente in collegamento con il cielo e non siamo mai né soli né abbandonati.